Eccoci ragazzi, la tipica, sono belle cose, i riti dello zafferano in Calabria di Gioia Tauro, i porcini secchi dell'Aspromonte, salsiccia di Reggio Calabria, facciamo una bella ricetta. Voilà! Grigioamento della salsiccia. Eccolamento. Adesso mettiamo nel piatto una volta ricotta la salsiccia. Ora prendiamo la cipolla, la cipolla, la cipolla. Grazie a questa radella ci mettiamo un po' d'olio, ci schiaffiamo la cipolla, vai. Mescolamento e lo facciamo rosolare. Adesso ci mettiamo per i funghi porcini dell'Aspromonte, e lasciamo che i funghi si abbollano. Adesso ci tuffiamo la salsiccia precotta. Adesso!